Vi piace il mio nuovo cucciolo? Si chiama Piccino Ciao a tutti ragazzi, io sono Kendal, il vostro imperatore E bentornati in un nuovissimo video Oh, non mi guardare così però, mi fa paura Di Minecraft Quest'oggi ho aggiunto più di 500 nuovi animali Realistici Qui su Minecraft Raga, lasciate subito un mi piace perché c'è veramente di tutto C'è sicuramente anche il tuo animale preferito che è questo Il pinguino Ammazza, sembra cattivissimo sto pinguino però, c'ha gli occhi rossi Ogni animale è presente in questo pacchetto E per dimostrarvelo vi faccio vedere che ci sono addirittura anche i criceti Che sono i miei animali preferiti Questo è il cricetonano, che sono quelli che c'ho io Piccolino, che bello che sei E qua c'è anche il siriano che è appena appena più grande Ma c'è di tutto ragazzi, c'è persino il gerbillo Che molti di voi non sapranno neanche che cos'è il gerbillo Ci sono anche gli scimmioni Mamma mia Ma di che cosa stiamo parlando? Bellissimo Come hanno fatto a fare ogni singolo animale? Sono troppi Sono veramente troppi Pure le formiche hanno fatto Guardate raga, la formica guerriera Ah! Ma che cosa sei? Tu non sei una formica guerriera Che schifo! No, no, no Non mi direi che hanno fatto le formiche giganti Tutti gli altri animali in teoria hanno dimensioni realistici Ah ok, meno male Sono piccoline Più o meno piccoline, dai Diciamo che una roba del genere su Minecraft non la voglio Gli animaletti carini, sì Gli insetti Piccolo disclaimer per gli arachnofobici Sto per farvi vedere dei ragni Che in teoria dovrebbero essere molto realistici e spaventosi Quindi in caso andate avanti di un paio di minuti E non dovreste più vederli Ma per chi invece non ha paura dei ragni State a guardare ragazzi Oh mamma mia Alta Ah ma che schifo Ok, tu sei carino, dai però No, 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 raga, la morte No, tu non c'entri niente Ah, la morte, la morte, la morte No, 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 no Tu no, tu proprio zero No, 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 no No, 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 no Questo è il mangiauccelli Che cosa vuol dire ragno mangiauccelli? Ti prego non dirmi che esisti nella vita reale Beh, parte dei ragni è finita Dovevo farli vedere perché c'è gente a cui piacciono quindi Ma ovviamente ci abbiamo anche le tigri Lo squalo tigre La tigre siberiana La tigre del Bengala La tigre della Cina del Sud Ok E vediamole Allora, lo squalo tigre innanzitutto È proprio bellino Mi farei mordere da lui No, meglio di no E vediamo adesso Tigre siberiana Uh, che sinceramente me l'aspettavo un po' più grande La tigre siberiana è enorme Rispetto alla tigre del Bengala Che sono uguali però, scusami Mi avete scammato Avete messo due nomi per due tigri uguali? No, quella del Bengala è un pochettino più scura Però non so se è una questione di texture o No, sì, è proprio più scura E con la siberiana invece è più chiara Però in teoria ci dovrebbe essere anche la tigre bianca No? Qua nascono solo tigri normali? Ok E io sono una tigre blu invece Proveranno ad attaccarmi se mi metto in survival? Ok, sì La risposta è sì Oh mio Dio No, 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 no Beh, era impossibile scappare Ma la figata di questo pacchetto è che non solo ti aggiunge appunto 500 nuovi animali Ma li puoi trovare tranquillamente in giro nei loro biomi Quindi mentre tu esplori il tuo mondo di Minecraft puoi giocare con tanti animali diversi Alcuni anche marini Guarda là, cos'è un pellicano quello? In teoria ci sono anche le aquile Esatto, bald eagle Questa è l'aquila americana Guardate No, vabbè ragazzi È gigante È enorme Che figata E ci sono anche i falchi Falco grigio Vediamo Che bello Ma ci sono anche i gufi? È certo, figurati Guffo delle nevi? Com'è possibile che per ogni specie Oh, vabbè no Bellissimi Bellissimi Cioè, sti pazzi non solo hanno pensato di fare tutti gli animali che esistono al mondo Ma gli hanno fatto anche le diverse razze Anche se devo dire che nel criceto manca il roboroschi Perché c'è il criceto nano, il criceto siberiano e anche il roboroschi E lì non c'è Ma va bene, dai Li perdoniamo Allora, fammi vedere che altro ci abbiamo Eh, ce ne sarebbero Il flamingo Il centopiedi Certo Scarafaggio Farfalla, ecco Scorpione Fammi vedere se hanno migliorato i cavalli, ad esempio Eh, eh, eh E anche le mucche Guarda quante mucche ci sono Ma quanti tori ci sono? Vediamo il toro Bellino Però è minuscolo Oh, mamma mia, il cavallo Stupendi Ma guardate Questo è un pony? No, no, no Bello il flamingo, però Che sta con la zampina alzata Aspetta, aspetta Fammi vedere i tori Sono curioso Prendo un po' di tori random Vediamo se ce n'è uno Tipo grande, grosso, cattivo, nero Ok, sembrano tutti carini però Non c'è il classico toro dei cartoni animati Quello che se vede rosso impazzisce Questi sono tutti piccini Oddio, gli orsi Voglio vedere gli orsi Ne abbiamo tre L'orso nero L'orso grizzly L'orso polare E questo che cosa sarebbe? Questo non è un orso Solo perché ce l'ha scritto bearded Ok, vediamo Orso polare Aiuto, raga Aiuto È terrificante È terrificante anche nel mondo di Minecraft Cioè, è grosso Lo vedi che è muscoloso Non come l'orso polare che hanno aggiunto veramente su Minecraft Questo fa paura Cioè, perché se io scrivo orso polare Guardate la differenza E di lui non hai paura Sembra un cucciolotto Poi vedi sto coso gigante Boom, boom Che pesa 30.000 chili Aiuto Ok Il grizzly Bello però Si può cavalcare per caso No, è vero È l'orsetto nero E loro sono più piccini Giusto, giusto Ci sta Vediamo che altro ci abbiamo Perché come vi dicevo Sono 500 Quindi Ce n'è di roba da vedere Le rane Altri tipi di rane Cocodrillo Camaleonte Verme Che schifo Zebra Serpenti Vediamo se c'è un'anaconda Anaconda Oh, c'è Aiuto C'è gialla e verde Fammi vedere Quanto sono grosse Eh, beh Ok Ok Aiuto Ma mi mangiano se mi metto in survival Andiamo Oh, beh, 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 bene Bene non ti fanno, ecco Sarebbe stato carino se avessero aggiunto anche l'animazione dell'anaconda Che proprio cerca di stritolarti E poi ti ingoia vivo Oh Creative Grazie No, crea Non mi ha fatto mettere in creative Vediamo un po' che altri animali abbiamo Allora, l'anaconda l'abbiamo visto Il Cocodrillo No No, questo è terrificante Questo è terrificante ragazzi Cioè, non scherziamo Questo è terrificante L'hanno fatto enorme Quanti ne esistono? Tre tipi C'è quello del nilo Che penso sia questo Poi quello africano e quello di Eh, d'acqua salata Oh, santo cielo Sono inquietantissimi Sono fatti troppo bene Guarda come si muove Aiuto Ma esiste anche il rinoceronte qua E certo, figurati C'è tutto Hanno pensato a tutto Guarda che belli Beh, però sono tutti uguali tra loro Cambia soltanto il colore E forse la lunghezza del corno Snake milk Eh? Serpente da latte Ma che cosa sei tu? Zebra Bellina Vabbè, l'anaconda L'abbiamo già vista Che altri animali terrificanti ci sono? Fatemi vedere un attimo Allora Il lemure No, vabbè Non tra quelli terrificanti però Che bellino Oddio C'è persino il coso Il grillo No, no Che schifo Dai, vabbè Però Ma non c'è una pisa Salti Fai i saltini No, no, no Io odio gli insetti ragazzi Non ci posso fare niente È più forte di me Grille e cavallette Sono pieno in casa Ho una paura che non avete idea Eh, allora Lo squalo Voglio vedere lo squalo Il grande squalo bianco Mamma mia Vediamo se riesco a nuotare più velocemente di lui Ciao scemo Scappa, scappa, scappa No, mi piglia sicuro Eh, mi piglia No, non mi piglia Sono più veloce di uno squalo? Poco realistico devo dire E se mi mangia? Ma come un cuore e mezzo? Ma se mi prende a morse uno squalo Un morso e sono già morto Non mi toglie di certo un decimo della mia vita Oh Ah, è il leone Fammi vedere se c'è il leone Certo che ci sarà il leone C'è la leonessa Leone africano Leone asiatico Fammi vedere il leone asiatico Eh, vabbè dai però Ma lo so Cioè secondo me si poteva fare un po' più grosso, eh Questo sembra un cane con la criniera Cane a proposito Scusa, i cani ci sono? Sì C'è il lab golden Lab nero Il retriever E l'al 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 Ah, ok Raga, ultimamente mi stanno uscendo un botto di video sui canguri E non sono così carini come sembrano Sono spaventosissimi Ok, c'è il canguro C'è il lippopotamo Mamma mia Ammazza, oh Tu sì che sei gigante Il ricino Maialino Struzzo E Uh, bello il cammello così Eh, mojang No, vabbè, un po' troppo realistico Però bello E basta Credo di avervi fatto vedere tutto Che c'è? Il bufalo C'è il bufalo Se vogliamo vederlo Eccolo qua Bellissimo No, scherzi a parte ragazzi Credo di avervi fatto vedere tutto Probabilmente ci sono delle altre varianti Di altri animali Altre razze Non lo so, ecco Però diciamo che la maggior parte delle cose le avete viste C'è il tucano No, 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 no Mi rifiuto, raga Dai Calabro No, no Proprio zero Via, via To, vatela a mangiare tu per favore Vatti a mangiare quel calabrone E questo è quanto ragazzi Come vi dicevo Questi animaletti adesso si possono trovare in giro In ogni bioma E questa cosa secondo me è stupenda Io infatti gradirei più varietà negli animali Nel mondo di Minecraft Secondo me Non si lamenterebbe nessuno Se ne aggiungessero Boh Dieci in più, ecco Giusto per non vedere sempre Mucche, pecore e maiali Mucche, pecore e maiali Varebbe carino trovare anche qualche piccolo animaletto che vola O qualche squalo in acqua Che può darti fastidio Tutto tranne questo Veramente dico Tutto tranne gli insetti Quelli teniamoli lontani da Minecraft Grazie Ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto Se così è stato Mi raccomando Lasciate un mi piace E dal vostro Kendall è tutto E noi ci vediamo domani Con un prossimo video Ciao 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 Ciao